Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 164esima puntata del podcast di Marcos Box. Vi avvertite l'odore di fritto nell'aria? Qui in buia, praticamente quando arrivano queste feste, si esce la mattina e quando si esce sul piano e rotto, si viene invasi dal fritto, si frigge tutto qua. Però le cose fritte sono più buone. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. In questa puntata parleremo di una particolare statistica che riguarda la diffusione di Linux, ma soprattutto parleremo di privacy, attacchi informatici e tracciamento degli utenti. Cominciamo. Cominciamo questa puntata parlando di privacy e sicurezza informatica, argomenti che come sapete negli ultimi mesi mi stanno molto a cuore e che dovreste anche voi non trascurare. Tra gli strumenti migliori che potete utilizzare per aumentare il vostro livello di privacy e sicurezza durante la navigazione web, c'è senza ombra di dubbio NordVPN, che è anche lo sponsor di questa puntata. NordVPN, ormai lo conoscete tutti, si tratta di uno dei servizi VPN più popolari al mondo, in grado di offrire agli utenti una connessione sicura e anonima su internet. Fra le VPN presenti sul mercato, NordVPN, oltre ad essere la più sicura e rispettosa per la privacy degli utenti, è anche quella più veloce, il che vi consente di navigare e protetti senza avere una connessione castrata. In più, offre una serie di strumenti aggiuntivi come la funzionalità Threat Protection in grado di proteggerci da malware, pubblicità e tracker durante la navigazione web, e la nuova funzionalità MeshNet per accedere in tutta sicurezza ad altri dispositivi ovunque essi si trovino. Se non l'avete ancora già fatto, potete iscrivervi a NordVPN utilizzando il mio link referral che trovate pubblicato sulle pagine del blog. Grazie alla promo, supporterete i blog e a tempo stesso otterrete fino al 69% di sconto sul piano biennale più 3 mesi extra, quindi non lasciatevi scappare questa offerta. Ma torniamo a noi alle notizie postate sul blog. Questa settimana ho pubblicato una guida che vi spiega passo passo come installare e configurare NordVPN sulla vostra distribuzione Linux preferita. Nella guida vi spiego come installare il client ufficiale per Linux e quali sono i comandi base da utilizzare per usare NordVPN. Vi anticipo già che sto cercando di realizzare una interfaccia grafica per switchare rapidamente tra i server di NordVPN. Nelle prossime settimane, se tutto andrà per il verso giusto, vi darò maggiori dettagli, quindi restate sintonizzati. Restiamo in tema di privacy e torniamo a parlare della vicenda spionaggio tramite notifiche push. La scorsa settimana vi avevo parlato della denuncia da parte del senatore americano Ron Wyden che aveva portato alla guce una metodologia di tracciamento e spionaggio mediante le notifiche push di Android e iOS. Adoperata da parte del governo americano e dei suoi alleati occidentali. A seguito della vicenda, Apple si era pronunciato affermando che questa vicenda dava loro l'occasione di cui avevano bisogno per condividere maggiori dettagli con il pubblico su come i governi monitorano le notifiche push ed è stata di parola. Apple ha infatti aggiornato le sue linee guida per i processi legali specificando che ora è necessaria l'ordinanza di un giudice affinché Apple consegni le informazioni inviate mediante le notifiche push dei propri clienti alle forze dell'ordine allineandosi così al modus operandi di Google. Non mancherò nei prossimi mesi di tenervi aggiornati sugli sviluppi. Devono aver passato un brutto quarto d'ora i tecnici informatici che gestiscono l'infrastruttura del servizio idrico statunitense che recentemente è stato vittima di un attacco hacker da parte di un collettivo iraniano. La notizia è stata riportata e confermata anche dalla Cyber Security and Infrastructure Security Agency CISA per gli amici degli Stati Uniti che ha rivelato che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana è dietro una serie di attacchi portati contro gli impianti idrici statunitensi. Ad essere hackerati sono stati i controllo logici programmabili PLC prodotti dalla società israeliana Unitronics. I PLC sono dei dispositivi progettati per monitorare e regolare macchine e processi di produzione in ambienti industriali che utilizzano tecnologie di automazione e sono di uso comune nel settore idrico e nel trattamento delle acque refue. Gli attacchi sono andati avanti almeno dal 22 di novembre 2023 e sono stati facilmente eseguiti complici alla mancanza delle più basicali regole di sicurezza informatici. I dispositivi compromessi sono stati messi in rete pubblicamente senza cambiare le password di default e lasciando la porta predefinita TCP 20-256. I cyberattori affiliati alla IRGC dopo gli attacchi hanno anche lasciato una serie di scritte contro l'Israele minacciando altresi di prendere di mira ogni attrezzatura prodotta in Israele. Che dire, brutta figura per i reparti IT delle società coinvolte che a mio avviso andrebbero presentemente sanzionati. Questa vicenda ci ricorda sempre come la sicurezza informatica non deve essere presa sotto gamba specie in un mondo interconnesso come quello che stiamo vivendo. Cambiamo decisamente il registro e passiamo a parlare di Firefox per Android che finalmente vede il ritorno in grande stile del supporto alle estensioni. Come alcuni di voi ricorderanno, il supporto alle estensioni di Firefox per Android è stato presente sino al 2020 dato in cui Mozilla decise di aggiornare il motore di rendering del browser lanciando la nuova versione che attualmente utilizziamo tutti i giorni. Nel tempo il supporto alle estensioni è stato via via reintrodotto con una serie di estensioni verificate e utili come un blocco origine ma un vero supporto completo per estensioni non è mai arrivato o meno fino ad oggi. Le nuove estensioni per Firefox sono circa 450 e sono accessibili e installabili direttamente dal menu estensioni di Firefox per Android. Voi che cosa ne pensate? Questa notizia vi farà tornare ad utilizzare Firefox su Android? Fatemelo sapere nei commenti. Le ultime due notizie della settimana riguardano il nostro caro amato pinguino. La prima riguarda Cosmic Day, nuovo ambiente desktop scritto in Rust per PopperOS e tutte quante le altre distribuzioni che vorranno adottarlo. Come da tradizione System76, la società che sviluppa PopperOS, ha pubblicato il consueto recap mensile dedicato allo sviluppo di Cosmic Day. Questo mese ci parlano dei progressi compiuti con redditor di testo, con supporto multimonitor e con l'implementazione delle impostazioni. Sul blog trovate un articolo corredato da immagini che vi mostrano i progressi compiuti. Non so voi ma io non vedo l'ora di provare Cosmic Day e soprattutto sono curioso di vedere lato prestazioni come si comporterà. E concludiamo questa puntata con una notizia un po' particolare che riguarda la diffusione di Linux. Ogni anno il famoso sito per adulti Pornhub pubblica le statistiche annuali di utilizzo del sito. Tra le tante metri che prese in considerazione c'è anche quella relativa ai sistemi operativi più utilizzati dai suoi utenti. Per il 2023 c'è un dato molto interessante anche per noi pinguini. Lato sistemi operativi desktop il nostro caro amato Linux ha raggiunto il 3,6% con un sostanziale incremento di più 31,2% rispetto al 2022. Quindi sì possiamo dire che il 2023 è stato finalmente l'anno di Linux, almeno su Pornhub. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 164esima puntata del podcast di Marcos Box. Il podcast si prenderà una piccola pausa per queste feste. Colgo l'occasione per porgervi i miei migliori auguri di buon Natale. Mi raccomando se potete cercate di trascorrere con i vostri cari perché l'affetto della vostra famiglia è la cosa più importante a questo mondo. Lunga vita e prosperità a tutti quanti dal vostro amichevole pinguino di quartiere. Ciao ciao.